Mentre la guerra segna il passo, nella capitale britannica si procede senza interruzioni alla messa in opera di misure antieree, isolando edifici e autopompe con ammassi di sacchi di sabbia. Conservatevi calmi, conservatevi freschi, giocando sulle parole questo venditore ambulante di coni gelati ha trovato una pubblicità d'occasione. Grandi escavatrici estraggono dai pacchi pubblici la sabbia occorrente per i ripari antieree. Battuglie militari sorvegliano il movimento delle stazioni e i posti di Dogana. Anche i vari postamenti di artiglierie antieree vengono circondati da altri spalti di sacchi di sabbia. In interrotta prosegue l'evacuazione della popolazione civile e particolarmente l'esodo dei bimbi. Grazie a tutti.